Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video vi spiegherò come completare la prima sfida di Tony Stark per lo sblocco di Iron Man. Naturalmente dovete arrivare a livello 100, quindi sbloccare sia Tony Stark che le sfide. Dovete finire il pass battaglia. Una volta che siete arrivati a livello 100 potete fare le sfide di Tony Stark. La prima sfida richiede di raggiungere gli 88 km orari o miglia orari con una whiplash come Tony Stark, il che fa molto di ritorno al futuro. Quindi come Tony Stark dovete entrare in questa vettura e raggiungere gli 88 km orari. È molto semplice, ve lo posso assicurare, è molto semplice. Il mio consiglio è quello di farlo o a sabbie, magari, o a siepi o borgo. Diciamo più borgo o sabbie perché lì solitamente trovate la vettura in questione. Quindi non dovete prendere un taxi, un camion, ma dovete prendere proprio una whiplash che poi trovate anche alle Stark Industries. Solo che qui diventa un po' problematica la cosa perché una volta presa la vettura poi dovete mettervi sulla strada e quindi diventa un po' più complicata come situazione. Quindi magari scendete a Borgo Bislacco, dove ci sono tra l'altro anche molti giocatori e non so perché, come Tony Stark e quindi dovete sperare che qui ci sia quella vettura. Ed eccola qua. Se non me la ciulano, vi mostro la sfida. Dobbiamo raggiungere gli 88 km orari. Quindi se la macchina, come nel mio caso, ha la benzina, dovete accelerare più che mai, attivare il NOS e arrivare a 88. Vedete, è molto semplice, molto veloce come sfida, quindi io vi consiglio di scendere a Borgo Bislacco. Grazie.